Facciamo una piccola live insieme anche al video che metterò sul canale YouTube. Quindi mi vedrete, sto facendo le prove, mi vedrete sul canale YouTube e live in questo momento. Cosa facciamo? Facciamo una piccola versione fotografica in pillole su come scattare un'immagine in azione, quindi il classico splash dell'acqua dentro il bicchiere senza utilizzare flash, quindi senza l'uso di flash professionali, a slitta o quant'altro, senza trigger, senza cavi, con questa lama di luce che per quelli del canale metterò in descrizione e se a voi interessa potete mettere qua sotto, mettete un commento, vi metterò il link in descrizione. È una lama da circa 70-75 euro, red, che si carica a rete e ha una batteria a litio che dura circa un'ora e mezza, a piena potenza. Si può utilizzare sia a luce bianca, quindi luce fredda, e anche a luce più calda, però noi la utilizzeremo a luce fredda. Cosa ci serve? Poco niente, ovvero bicchiere, calice, in questo caso è brandizzato, quindi lo otterrò laterale, lo otterrò così per evitare che si veda il logo, poi con due colpetti di timbro clone lo andremo a eliminare. Attenzione quando utilizzate i vetri, o usate dei guanti, oppure cercate quanto più possibile di eliminare quelle che sono le impronte. Io in realtà l'ho già pulito prima, ragazzi, non è che sto facendo una pulizia finale per evitare le impronte. Ok, cercate di prendere sempre bello, non bicchieri o calici rigati, perché sennò poi dovete andare a lavorare in post-produzione per ore. Voilà. Ok. Top. Poi, questo è un vetro, in molti mi hanno chiesto che cos'è questo, dove l'ho acquistato, è un vetro temperato che c'è in sbagliati colori, io l'ho preso antracite e l'ho acquistato a Leroy Marlen, l'ho pagato circa 60 euro, ed è praticamente il rivestimento che si utilizza per le portelle delle cucine. E' favoloso, perché non si muove, non si riga, mi sono caduti degli oggetti qua sopra, anche in metallo, e veramente non si riga, non si scheggia, è pesante, quindi non si sposta, e questo è importante quando utilizzate, quando fate scatti dove magari la base tende a spostarsi. Ok, noi andiamo ad inserire questa cosa qua, ma andiamo ad appoggiare più o meno qua, poi vedremo un attimino come fare. Ci serve per il riflesso, ok? Poi, opalino, si può utilizzare anche della carta da forno, o della carta da lucido, però la carta da lucido e la carta da forno sono morbidi, sono morbide, e quindi mettendole qua, o le blocchiamo con degli accrocchi, oppure non stanno. L'opalino, questo qua è praticamente l'opalino che ti danno insieme al led che vedete qua dietro, si vede sì, il mio fantastico led New Year, uno dei due che utilizzano di solito per la fotografia, ma anche per l'illuminazione, così generica. Siccome questo a mio avviso non serve a nulla, perché non diffonde più di tanto, io utilizzo poi dei diffusori più ampi, allora, questo qua lo uso per delle cose, per diffondere la luce in maniera piccola, o maggiormente per la retroilluminazione, ovvero, o retroilluminazione delle bottiglie, bottiglie non troppo grandi, oppure dei bicchieri come in questo caso, quando faccio il multiscatto, oppure come in questo caso qua, dove facciamo uno scatto praticamente quasi unico, voi potete decidere di farlo unico, lavorare su due fuochi, ovvero, mettere prima a fuoco la parte dell'appoggio del calice, perché qua sono su due piani differenti, e poi mettere a fuoco la parte qua frontale, quindi prendere come riferimento la parte qua dell'invocatura frontale, perché quando poi andate a fare la versata, avrete la maggior parte degli splash a fuoco, versata compresa. Non utilizziamo flash? Utilizziamo. Ovviamente alzeremo ISO, alzeremo ISO, io con la mia, 3200 ISO, con questa potenza qua, poi dipende dalla fonte di luce che andrete a utilizzare, con questa fonte di luce avete la possibilità di lavorare a F11 per quanto riguarda il diaframma, ISO 3002 in questo caso qua, e un 6400esimo di velocità, no, scusate, sì, un 6400esimo, sì, un 6400esimo di velocità di diaframma, di tempi, scusate, ok, questo lo appoggiamo qua dietro, non cade, stai dietro anche, clac, ottimo, adesso qua abbiamo la silhouette, da qua penso si possa vedere, sì, poi tanto sul canale YouTube vedrete le varie inquadrature, quindi anche quella frontale, quello che sto facendo qua, un po' più da vicino, in questo caso qua cosa abbiamo? Abbiamo la retroilluminazione, quindi abbiamo tutta la silhouette coperta, con la parte del bicchiere, e quindi non dobbiamo fare altro che andare a mettere a fuoco, prima, per quanto mi riguarda, poi voi potete fare anche uno scatto unico, però avrete poi a fuoco solo la versata, e andando a zoomare non avrete a fuoco bene, questa che è la parte dell'appoggio, quindi io consiglio di mettere, fare prima uno scatto col bicchiere vuoto, anzi due scatti, scatto col bicchiere vuoto di questa parte qua, quindi la pancia e l'imboccatura, scatto col bicchiere vuoto della base, quindi anche del riflesso pulito, e poi facciamo lo scatto mettendo di nuovo a fuoco qua, della versata, di modo che, se poi bagniamo tutta la base, se bagniamo il bicchiere e quant'altro, abbiamo degli scatti di base, dove possiamo andare a lavorare, per unirli assieme, avere tutto lo scatto pulito e completo, quindi ovviamente fuoco a mano ragazzi, mettiamo a fuoco la base, per sicurezza spostiamo lo palino, invece di appoggiarlo al bicchiere, lo appoggiamo alla lama, o addirittura possiamo tenerlo così, tanto ormai in quadratura ce l'abbiamo, fate solo attenzione a non entrare in camera, o lo scatto rapido, non mi è parlato qualche scatto però, ok, così non avete la linea di appoggio, che va a finire sull'appoggio del bicchiere, ok, cercate di trovare una posizione, per far sì che questo vada a finire sul vetro nero, e quindi sia bello da vedere, ok, adesso invece ci occupiamo, della parte sopra, quindi mettiamo a fuoco la parte della pancia, diciamo, dell'imboccatura della pancia, ok, lavorate sempre bene sul fuoco, mi raccomando, ottimo, e adesso non ci resta che fare la versata, quindi manteniamo questa cosa qua, questa è la cosa praticamente più difficile, nel senso che è difficile perché dovete cercare, innanzitutto di prendere qualcosa con un becco, in modo che non venga la versata troppo larga, perché se poi praticamente si allarga, oltre a uscirvi di fuori, non è bella da vedere, deve essere molto omogenea, pulita, deve scendere in maniera giusta, dovete scattare molto, quindi fate molte prove, io adesso farò delle prove live, così, e per il video, poi ne farò altre, per avere più scatti, per poi utilizzare lo splash più bello, che è all'interno della pancia del bicchiere, ma anche la versata più bella, perché non è detto che la versata è lo splash, in uno scatto unico, se avete fortuna può capitare, altrimenti dovrete utilizzare su due livelli, quindi prendere magari lo splash più bello, e la versata più bella, unirla insieme, e avere praticamente quasi la perfezione di scatto, ok? Bagniamo tutto? Che dite? Sì? Ci ammuffiamo per bene? Ma tanto noi abbiamo anche questo, e mi raccomando, oltre al salvagente, dobbiamo avere anche la carta casa, scatto rapido, poi tanto a un 6.4 centesimo si va, fino al buffer, quindi finché la vostra scheda ve lo permette, ve lo consiglio, o finché finite l'acqua, o finché non arrivate alla fine del bicchiere, via. Qua ho versato, non mi interessa, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto, ricontrollate sempre bene, di solito, in questi scatti qua, le migliori sono le prime, cioè il primo e il secondo colpo, perché cosa succede? Quando io faccio la versata, boom, verso, innanzitutto bisogna allenarsi un attimo, per andare a colpire la parte giusta, i primi scatti sono i migliori, perché cosa succede? L'acqua cade, soprattutto in bicchieri, e scegliete i picchieri panciuti, è vero che questo è un calice da birra, ma l'ho preso apposta per far sì, i calici da vino e i calici da birra, fanno questo movimento qua, perché l'acqua cade, poi ritorna un po' su, e quindi fa questa sorta di movimento di vortice, che è bella da vedere, se utilizzate magari un calice da sfumante, un flut, o un semplice bicchiere d'acqua, che è molto largo e cilindrico, è difficile che crei questa forma morbida, bella da vedere, e quindi utilizzate, anche se non sono quelli d'acqua, utilizzateli per fare delle prove, e per divertirvi, e per fare scuola. Come cosa vi dicevo? Perché i primi funzionano bene? Funzionano bene perché c'è l'impatto dell'acqua sul bicchiere, quindi si forma appunto l'onda, e in più delle volte, il getto dell'acqua, quindi la cascata dell'acqua, è omogenea e pulita, in effetti è quella che ho visto. Quelle dopo sono anche belle, perché creano delle bolle, perché se voi continuate a buttare l'acqua, l'acqua entra all'interno della sua stessa acqua, e quindi forma quelle bollicine. Dipende, e lì anche un discorso di gusto, dipende a voi cosa piace mantenere. Potete anche divertirvi, se siete bravi, con Photoshop o comunque con un programma di fotoritocco, a fondere le varie immagini, e quindi magari tenere quello che è il primo splash, poi finire la parte del primo splash, aggiungere delle bollicine, lasciare magari, a volte cadono delle bolle d'acqua, delle chiazze di acqua, che sono belle da vedere, lasciarle sul piano, a me non piacciono perché mi danno il senso di non pulito, e quindi non le tengo, a me piace tenerlo pulito. Io molto probabilmente la farò in bianco e nero. ok? Grazie a tutti.